Inizia da Catanzaro il tour della Calabria. Una prima domanda, onorevole, come è possibile allontanare gli anticorpi dalla competizione elettorale, specialmente ora in questo momento, tra qualche giorno si vota a Catanzaro? Ma come Commissione Antimafia abbiamo innanzitutto, per le liste abbiamo provato, e ci siamo riusciti per le vecchie regionali ad anticipare i tempi, perché fino all'anno scorso il controllo delle liste per vedere le liste pulite avveniva, a ridosso delle elezioni, quindi la famosa lista degli impresentabili veniva pubblicata il venerdì, quando poi la domenica si andava a votare, ed era tardivo per gli ingressi eventuali di persone che portassero gli interessi non dei cittadini ma delle criminalità organizzate. Oggi stiamo cercando di anticipare sempre di più queste cose, ma poi la cosa fondamentale, questo lavoro lo devono fare i dirigenti delle classi dei vari partiti politici, questo è un lavoro e soprattutto anche i cittadini che devono scegliere chi rappresenta i loro interessi e non chi compra la loro fame. Sui comuni sciolti per mafia? Sui comuni sciolti per mafia c'è un lavoro da fare, lo stiamo facendo come Commissione Antimafia, abbiamo costituito un comitato perché siamo a più di 370 enti sciolti per infiltrazioni delle criminalità organizzate dal 91, anno nel quale è stata istituita la legge che prevedeva la possibilità dello scioglimento per infiltrazioni e ne sono tanti, quindi su questo bisogna ragionare perché quando arriva è giusto come istituto quello dello scioglimento a tutela dei cittadini, ma è chiaro che al tempo stesso rappresenta anche un'unta per quei cittadini e spesso poi vediamo che i comuni sciolti poi vengono risciolti e quindi stiamo provando a intervenire, abbiamo scelto dei consulenti che sono ex prefetti, professori universitari e stiamo individuando già dei nuovi compi che devono avere i commissari di tempi diversi perché serve a tutela dei cittadini lo scioglimento ma al tempo stesso è un'unta che i stessi cittadini non meritano. La politica c'è con dei limiti ma ci sono migliaia di ragazze e ragazzi che rappresentano in questo momento gli interessi dei cittadini in tutti i partiti politici e il potere politico è l'unico potere che hanno i nostri figli per diventare protagonisti e non essere schiavi del futuro, quindi la politica va difesa a prescindere dalle idee perché ripeto è l'unico potere che hanno i nostri figli per determinare il loro futuro e non subirlo.